Sono sempre stato spaventato dall'idea di vivere in difficoltà, quindi se poi mi ha male non c'è soldi Mi sono detto, voglio levarmi questo problema C'è un tizio che io seguo, c'è un tizio che si chiama Naval Ravikant È uno dei pensatori della Silicon Valley, un po' mezzo filosofo Lui dice, money solves all your money problems Quindi i soldi dicono tutti i tuoi problemi riguardanti i soldi E io ho detto, ok, io voglio tutti i miei problemi riguardanti i soldi risolti E quindi ho detto, ok, per ora in questa fase Ma qualcuno diceva, more money, more problems In realtà no, però Quello era un coglione